Musica Ragazzi facciamo un applauso al comitato artigiani E' l'autore del carro Giovanni Santulli Massimo De Luca I progettisti Toni De Stefano Non si è chiuso Toni De Stefano Qua non so chi sia Barbato De Stefano Riferirò Allora ragazzi c'è stato un pit stop Da problemi fisici Quindi adesso mi sono Mi dovrò provvisare a fare un po' di animazione Io non ho mai fatto animazione Proverò Allora mani al cielo tutti Facciamo così Facciamo così Ah sono state ritrovate delle chiavi di una Peugeot Quindi qualora voi voleste ritornare a casa con la macchina Sono qui al bar E' bene? Se no ce la facciamo a piedi Allora mani al cielo Allora facciamo così Io ero abituato allo stadio Tutti avanti Proviamo? Tutti avanti Ok ok Ci siamo Ora facciamo tutti avanti Tutti indietro Va bene? Tutti avanti Tutti indietro Tutti a destra Tutti a destra La vostra destra Artigiani 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 Allora Artigiani Ale Ale Saltellate Va bene? Allora Tutti avanti Tutti avanti Tutti a destra Tutti a destra Artigiani Artigiani Tutti avanti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti